Ben ritrovati amici del centro metro italiano, vediamo di fare il punto con la tendenza aggiornata per le festività natalizie. Come detto nei giorni scorsi, l'anticiclone delle Azzorre ha guadagnato terreno verso l'Europa occidentale, bilanciandosi però verso la Scandinavia e permettendo ad una massa d'aria più fredda di raggiungere la nostra penisola dai quadranti nord orientali. Fino alla giornata di sabato, l'anticiclone dovrebbe rimanere posizionato sull'Atlantico, con massimi di pressione al suolo fino a 1048 pascal. La sua influenza sull'Italia sarà comunque sempre maggiore, tanto che non ci aspettiamo precipitazioni di rilievo, specie nella seconda parte della settimana. A partire dalla vigilia di Natale, la situazione si fa decisamente più incerta. L'anticiclone potrebbe infatti ripiegare verso il Mediterraneo spinto dalle correnti atlantiche, anche se le regioni del sud potrebbero trovarsi ancora sotto un flusso più freddo nord orientale. La protezione dell'anticiclone potrebbe inoltre essere di breve durata, in quanto tra Natale e Santo Stefano potrebbe cedere, consentendo il passaggio di una rapida perturbazione atlantica. Seguite allora i prossimi aggiornamenti per le previsioni meteo di Natale sia sul nostro sito che tramite il nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano!